Sicuramente un derby è sempre una partita molto difficile, quindi è una partita molto fisica, molto dura emotivamente e fisicamente. Credo che sull'aspetto caratteriale abbiamo un po' mancato oggi e cerchiamo di lavorare su questo aspetto e sul lavoro nei dettagli per farci trovare pronti settimana prossima. Credo che riguardo al pacchi degli avanti abbiamo concesso troppe cose, abbiamo fatto noi degli errori fondamentali contro squadre come le zebbre. Partite come queste fanno la differenza, quindi credo che dovremmo aggiustare quelle piccole cose e quei piccoli dettagli che la prossima partita faranno la differenza. Sono partite particolari, ce le avevamo prefissate di farci sentire sia fisicamente che caratterialmente, però la partita è andata così. La prendiamo come punto di riferimento e cerchiamo di lavorare e di cambiare ciò che è stato sbagliato in questa partita per farci trovare pronti settimana prossima. Sia dall'aspetto fisico, lavoro nei dettagli, ma soprattutto caratteriale. Dovremmo continuare a fare il nostro gioco senza concedere niente agli avversari. Credo che concedendo punizioni o falli stupidi potremmo cercare di fare la differenza. Fare il nostro lavoro e migliorare i dettagli.